Grazie a tutti. 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 Se non c'è la preghiera noi non andiamo mai oltre la giustizia, questo poi alla fine riassunto questo è. Se non c'è la preghiera restiamo dentro i confini della giustizia e accettiamo poco la logica della misericordia. Soltanto se c'è la preghiera superiamo le certezze della giustizia, anche qualche volta con qualche sacrificio, altre volte vissuta con l'equilibrio dei farisei, ma senza l'invocazione, senza l'intercessione non la superiamo. Questo è quello che io ho pensato sul discorso della forza dell'intercessione. La tentazione di ognuno di noi mi sembra è quella di confidare piuttosto nella forza degli uomini, nell'attrazione delle cose, nell'attrazione del fare. E la preghiera è uno spazio sempre vuoto per l'organizzativo, è inutile per l'indaffarato, addirittura può apparire pericolosamente una perdita di tempo. Poi è difficile che questo noi lo teorizziamo, lo facciamo in maniera pratica, cioè lo spazio che poi lasciamo all'intercessione, alla preghiera, in genere è ritagliato tra tanti aspetti direi più organizzativi che sentiamo più nostri, mentre la preghiera la sentiamo come uno spazio che non è nostro, e sbagliamo. La preghiera appunto finisce per essere uno spazio inutile, ma senza la preghiera noi non abbiamo uno sguardo contemplativo sulla città. Uso proprio questa espressione su cui Papa Francesco insiste moltissimo nell'Evangelii Gaudium, cioè dobbiamo avere uno sguardo contemplativo sulla città. Che cosa poi significhi uno sguardo contemplativo? Dovremmo fermarci a capire che cosa ci chiede avere uno sguardo contemplativo sulla città. Certamente non possiamo averlo senza una dimensione interiore, quindi senza la preghiera. Se non c'è uno sguardo contemplativo sulla città vuol dire che non la capiamo, o vuol dire che la analizziamo soltanto con alcuni aspetti, con i criteri, potremmo dire sempre all'interno della giustizia, ma non sappiamo comprendere nella misericordia quell'oltre della città che invece è indispensabile per capirla, per orientarsi anche all'interno della città. Il rapporto fra la preghiera e la misericordia non è affatto scontato, perché noi spesso pensiamo che la misericordia sia una nostra scelta, faticosa una nostra scelta, mentre anzitutto è un dono che riceviamo e che ci porta la misericordia dove noi non andremmo. appunto, oltre i confini dell'equilibrio, di quella giustizia degli iscrivi e dei farisei che noi siamo tenuti tutti a superare. Che la misericordia che ci corregge, per esempio, mentre nella giustizia al massimo dobbiamo misurarci all'interno dei riferimenti che sono molto chiari, quelli della misericordia vanno sempre oltre, per cui, per esempio, nella misericordia noi non ci possiamo accontentare nella giustizia, siamo sicuri, anzi, ho fatto tutto quello che dovevo e non ho motivi per essere inquieti. Ecco, senza misericordia frutto della preghiera noi non sappiamo essere misericordiosi verso gli altri, perché saremo prigionieri delle nostre misure, avare, dei limiti, dell'impossibile, mentre è la preghiera che allarga il cuore e genera sempre qualche cosa di nuovo, perché è creativa e la misericordia, appunto, è essa stessa creativa, cioè crea qualcosa che ancora non c'è. Nella preghiera c'è, per esempio, l'insistenza, per esempio, che supera il limite, che libera dalle misure, dallo spazio, ci aiutano a entrare in una logica del tempo e non, appunto, della verifica immediata dell'utilità, sapendo che il tempo sarà efficace. Nella misericordia c'è sempre qualche cosa che noi lasciamo e che non possiamo immediatamente misurare, no? Come la misericordia, così l'invito a non essere cristiani tristi, che provano, pensando di essere sconfitti o calcolando di più i limiti dell'oltre. Il nostro realismo diventa poi una giustificazione di fronte alla mentalità del mondo, come se la misericordia sia impossibile e dobbiamo invece restare all'interno della giustizia. La misericordia appare pericolosa per gli uomini giusti, confonde l'atteggiamento del fratello maggiore di fronte alla misericordia e del padre, che è molto più diffuso di quanto noi pensiamo ed è molto più nostro di quanto noi pensiamo. Solo quando crediamo che la misericordia si realizza, allora è davvero misericordia. Mi spiego meglio. Noi molte volte pensiamo alla misericordia come uno sforzo in più, mentre la misericordia non è come dire cercare una giustizia un pochino maggiore, è un'altra logica, è un altro rapporto. Per questo senza la preghiera noi resteremo sempre all'interno della giustizia. Quando crediamo che la misericordia si realizza, allora sì che possiamo, che si compiono, si realizza qualcosa che altrimenti è impossibile. Faccio alcuni esempi per me. La cura dell'AIDS in Africa nasce da una volontà di misericordia, cioè di dire che non è possibile accettare che gli africani non abbiano le cure perché costano troppo, perché i calcoli economici portano a dire che è impossibile dare le cure. Bisogna, fra trent'anni, questi erano grossomodo i calcoli che facevano all'OMS, fra trent'anni si può garantire le cure, ma adesso no. La misericordia non accetta questo, non ha accettato questo. Penso al progetto DREAM della comunità di Sant'Egidio, appunto, che non ha accettato questa logica e nella misericordia ha anticipato qualcosa che poi per fortuna si è rivelato possibile, ma che all'inizio sembrava, appunto, impossibile e per certi versi pericoloso, perché, per esempio, dicevano voi create delle illusioni, oppure voi fate qualche cosa che poi non è sostenibile, in realtà poi si è verificato che era sostenibile. Soltanto la misericordia permette quell'oltre che supera, appunto, le misure e i limiti della giustizia. Allora, quello che ci è chiesto non è una giustizia un po' più generosa, ma ci è chiesto, nella misericordia, ed è appunto legata strettamente al discorso dell'intercessione di far nostra la invocazione della miseria dell'altro e di farlo con l'attenzione della madre, con i sentimenti della madre, lo è proprio anche in termini filologici, la misericordia. Per questo la misericordia è un'altra dimensione rispetto alla giustizia, ma la completa. Anche qui molte volte si mette in contraposizione, in maniera pratica, la misericordia e la giustizia. In realtà, credo che la misericordia è il compimento della giustizia e, a dire il vero, non c'è giustizia senza misericordia. Tant'è vero che il mondo è largamente ingiusto. Accettiamo dei disequilibri, delle evidenti ingiustizie e ci sentiamo giusti. Crediamo appunto che, perché? Perché senza la misericordia, alla fine, la giustizia diventa giustificazione. Diventa un limite che poi in realtà si rivela assolutamente ingiusto. Pensiamo appunto, per esempio, alle povertà, per esempio. Allora, la speranza può generare qualcosa e nell'invocazione, nell'intercessione, c'è sempre una grande domanda di speranza. Altrimenti, appunto, nel realismo non nasce nulla di nuovo. Non a caso, Papa Francesco a Firenze, parlando del nuovo umanesimo e del dovere della misericordia, quella bellissima immagine della medaglia spezzata, per cui diceva come nell'ospedale degli innocenti venivano spezzata la medaglia e la madre si teneva quella metà e l'altra la consegnava al figlio che perdeva nella speranza che poi un giorno si poteva riconoscere il figlio. E lui, il Papa ha detto, noi, la Chiesa è questa madre che ha la medaglia. Ed è questa appunto, questa bellissima immagine della misericordia. Non a caso ha insistito proprio sul discorso della preghiera. E quando ha indicato a tutti quanti i preti di diventare come Don Camillo, lo ha spiegato perché, dice, cito Papa Francesco, nelle storie di Guareschi, la preghiera di un buon parroco si unisce alla evidente vicinanza con la gente. Di sé Don Camillo diceva, sono un povero prete di campagna, che conosce i suoi parrocchiani uno per uno, li ama, che ne sa i dolori e le gioie, che soffre e sa ridere con loro. Questo è preso dal breviario di Don Camillo. Vicinanza alla gente e preghiera sono la chiave per vivere, dice Papa Francesco, un umanesimo cristiano, umile, generoso e lieto. Se perdiamo questo contatto con il popolo fedele di Dio, perdiamo in umanità e non andiamo da nessuna parte. La preghiera, allora, cioè l'intercessione, genera umanità e genera la misericordia. Perché? Perché la contemplazione del volto di Gesù, ed è poi la preghiera, perché la preghiera è anzitutto la contemplazione del volto di Gesù, morto e risorto, che ricompone la nostra umanità. Allora dice Papa Francesco, non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Cristo. E' il misericordie vultus. Lasciamoci guardare da lui. Gesù è il nostro umanesimo. Facciamoci inquietare sempre dalla sua domanda, voi chi dite che io sia? Allora, in questo c'è un legame strettissimo tra la preghiera e poi le scelte concrete. E per avere compassione, cioè misericordia, dobbiamo avere contemplazione. Come Maria, qui prendo una riflessione che Valdovinai tanti anni fa ci consegnò di leggere assieme il buon samaritano e Marta Maria. Di leggere continuativamente, in effetti, il buon samaritano, cioè Marta Maria viene immediatamente dopo la parabola del buon samaritano. Per avere compassione, dobbiamo avere la contemplazione di Maria. Per fermarci, dobbiamo fermarci come Maria. Per chinarci sull'uomo mezzomorto, dobbiamo metterci ai piedi di Gesù. La preghiera, appunto, e la misericordia, perché poi anche lì la traduzione di compassione e misericordia sono quasi, sostanzialmente quasi sinonimi. Allora, il problema per noi, mi sembra, è quello di uscire da una contrapposizione, purtroppo che ha segnato tanto per secoli, la lettura dell'episodio di Marta e di Maria. La contrapposizione tra vita attiva e vita contemplativa. In realtà, i diretti interessati ne sono usciti fuori, ma spesso noi no, perché noi spesso siamo poco contemplativi e riduciamo la vita attiva da Fanny a Marta a operatività senza il di più dell'amore. Come possiamo altrimenti spiegare, per esempio, che alcune Caritas arrivavano, arrivano ancora a giustificare di non dare l'elemosina, se non appunto un modo paradossale di perdersi negli strumenti, nelle analisi, negli affanni, nelle attività, ma smarrendo anche quel di più che è l'amore. Per cui tu arrivi con una certa geometria, che è quella di Marta, diciamo così, a non riconoscere più la vicinanza al volto di Gesù. Ed è la fatica di fermarsi, oppure per esempio la paura della gratuità. In fondo, Maria perde il suo tempo, Marta no. Il nostro dovere è lavorare per rendere questo mondo un posto migliore e lottare, dice Papa Francesco. La nostra fede è rivoluzionaria per un impulso che viene dallo Spirito Santo. Ed è un impulso di cui noi ci lasciamo pervadere, anzitutto nella preghiera, anzitutto nel fermarsi. Dobbiamo seguire questo impulso per uscire da noi stessi e per essere uomini secondo il Vangelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla capacità di donarsi. Senza la preghiera si finisce con l'organizzazione, in cui facilmente veniamo catturati dalla logica della giustizia. Dice Papa Francesco nell'Evangelio Gaudium, il numero 49. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Ed sono le tante tentazioni di una Chiesa che, pregando poco o riducendo lo spazio della preghiera in realtà, riduce anche quello della misericordia. E Papa Francesco indica spesso due tentazioni che vorrei ricordare, quella di diventare pelagiani e quella di diventare gnostici. La tentazione pelagiana è quella che spinge la Chiesa a non essere umile, disinteressata e beata. E lo fa con l'apparenza di un bene. Il pelagianesimo ci porta a avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette perché astratte. L'intercessione è tutt'altro che questo, perché l'intercessione ci porta a far nostra la domanda dell'altro. Nell'intercessione c'è l'assunzione del dolore dell'altro, dell'aspirazione dell'altro, che faccio mia e che appunto di cui presento io, per conto dell'altro insieme all'altro, insieme al prossimo, insieme al sofferente, insieme a colui di cui mi faccio carico della sua sofferenza e che presento appunto al Signore. La tentazione pelagiana ci porta ad assumere invece uno stile di controllo, di durezza, di normatività. La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi superiore e di avere un orientamento preciso, per questo leggo tanto al discorso della giustizia. In questo trova la sua forza, cioè nel sentirsi sicuri per le norme, e non nella leggerezza dello spirito. Ma la dottrina cristiana, e qui cito Papa Francesco, non è un sistema chiuso, incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare. La dottrina si chiama Gesù Cristo. E la preghiera, allora, è l'ascolto, anzitutto, di Gesù, è godere della sua compagnia, l'intercessione è farsi carico degli altri, e quella carne che ci spinge a chiedere, come i quattro che portarono sul lettino, sulla barella, sul lettuccio, i quattro che ruppero il tetto, si accordarono tra di loro per portare il paralitico davanti a Gesù. La seconda tentazione è quella dell'ognosticismo, che porta a confidare nel ragionamento logico, chiaro, che perde, però, la tenerezza della carne del fratello. Il fascino dell'ognosticismo, cito Evangelii Gaudium al numero 94, è quello di una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto, in definitiva, rimane chiuso nell'immanenza della propria ragione o dei sentimenti. L'ognosticismo non può trascendere, mentre la preghiera, l'intercessione, è presentare, non nel soggettivo, anzi, è aprire il soggettivo per incontrare un tu. Non è introspezione senza Gesù, ma è rivolgere al Signore la domanda così concreta, perché nell'intercessione è far proprio le domande concrete dell'altro. Allora, la differenza tra trascendenza cristiana e qualunque forma di spiritualismo gnostico sta proprio nel mistero dell'incarnazione. Non mettere in pratica, non condurre la parola alla realtà significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi che non danno frutto. L'intercessione e la misericordia sono appunto legate, l'intimismo è l'aspetto interiore che può andar bene in una giustizia per cui ho già fatto tutto quanto quello che dovevo, no? Per questo la preghiera è invece uscire da sé e ci aiuta ad uscire per strada. Noi oggi non viviamo un'epoca di cambiamento, dice Papa Francesco, quanto un cambiamento d'epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono delle sfide nuove che sono difficili da comprendere e che soltanto nell'intercessione possiamo comprendere. E quindi questo tempo ci richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli. Nella giustizia l'altro diventa un fastidioso incidente. pensate sempre alla logica del sacerdote delle vita che si infastidiscono o si impauriscono dell'uomo mezzo morto e non intercedono appunto per lui o non si fermano per lui nella via della misericordia e si accontentano soltanto della propria giustizia. Solo mettendoci per strada possiamo incontrare l'imprevisto e farlo nostro. La preghiera non si accontenta come la misericordia che cerca sempre qualcosa di più. Madalena del Breller c'è l'espressione molto bella dice non possiamo accontentarci di una misericordia al ribasso diceva la misericordia diciamo del fare il proprio dovere la misericordia non l'accetta mai il proprio dovere lo supera va oltre appunto perché la misericordia vuole la pienezza per amore e non per perfezionamento individuale quindi Gesù insiste che solo se crediamo nella efficacia la preghiera sarà si potrà realizzare la misericordia accennavo prima appare ingiustificata qualche volta inutile anzi dannosa e la misericordia è possibile solo se non ci accontentiamo del realismo ma entriamo nella realtà per cambiarla il Signore la preghiera che ci chiede Gesù è fare quello che appare impossibile perché sappiamo che ci ascolterà e solo se il discepolo prega si può realizzare quello che altrimenti i funzionari i testimoni degli spettatori per usare un vocabolario di Papa Francesco non penseranno mai che si possa realizzare Papa Francesco non accetta la subalternità ma vuole tutti noi protagonisti ma non per noi ma perché nella preghiera sperimentiamo la forza dello spirito nell'intercessione sperimentiamo la presenza di un oltre che poi deve tradursi appunto nella misericordia come si diventa sordi poco alla volta agli altri non solo perché il sordi alla parola ma perché diventiamo muti nella preghiera spesso non è una scelta diventare sorti ma inizia in una piccola autosufficienza la sordità ci porta a diventare vecchia non ascoltare più non si ascolta Dio e non si ascoltano gli uomini si finisce così per ripetersi magari cercando e o il consenso per se stessi si finisce per fare ogni sforzo non so per cercare di essere a posto e diventiamo facilmente vecchi dentro e fuori noi non siamo chiamati a piacere dagli uomini ma a comunicare l'amore e la gioia del Signore agli altri il rischio è quello facilmente di diventare vecchi perché non ascoltiamo materialmente l'ambizione che Dio ha su di noi e che attraverso di noi vuole che raggiunga tanti la preghiera è sempre dei figli è sempre dei figli e di discepoli ed è questa figliolanza che allarga e perfeziona il nostro cuore e quindi il nostro stesso ministero pastorale l'apostolo Paolo nella prima letta dei salonocesi dice pregate senza sosta ed è un'espressione che si connette all'altra che dice siate sempre lieti nella giustizia non c'è gioia c'è sempre tristezza nella misericordia c'è sempre comunque anche nelle difficoltà la letizia dei sentimenti che entrano in collegamento tra di loro la letizia di aver trovato una risposta la letizia dell'aver cercato comunque il sollievo per l'altro il volto del cristiano non deve essere un volto affannato e triste al contrario deve esprimere la gioia di essere al servizio del Signore e dei fratelli ma com'è possibile pregare senza sosta e non è qui anche sempre un problema di giustizia è sempre un problema di misericordia perché senza sosta preghiamo se viviamo come una madre rispetto al proprio figlio le nostre vite sono piene di impegni c'è da dire in verità che tanto spesso abbiamo paura di una vita senza impegni e allora troviamo persino gusto di riempirci le giornate di iniziative di cose da fare di appuntamenti da soddisfare insomma è sempre Marta spesso le riempiamo anche di qualcosa che è per certi versi inutile e in genere la prima cosa che salta è proprio l'ascolto della parola il tempo per raccoglierci nella preghiera facciamo fatica a fermarci a fare silenzio e abbiamo paura del silenzio tutti credo dobbiamo interrogarci sulla paurura del silenzio che c'è in ciascuno di noi la fuga dalla preghiera è un sintomo chiaro dell'orientamento esteriore della nostra vita in effetti la preghiera rompe una vita vissuta come attività alla fine come esteriorità e afferma il primato del cuore il silenzio il primato dell'essere anzitutto discepoli che sanno ascoltare il maestro riprospondiamo così all'invito di Gesù che ci chiede quando preghi entra nella tua camera e chiusa la porta prega il padre tuo nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà per pregare con il cuore per liberarci dalla folla dei nostri sentimenti e delle nostre distrazioni c'è bisogno del silenzio appunto di chiudere la porta della camera di staccarci da quello che facciamo ogni giorno e di abbandonarci alla parola di Dio è uno stacco a volte difficile tanto che lo rimandiamo anche perché è strettamente legato alla nostra pesantezza di adulti alla facilità con cui siamo concentrati sul nostro io allora il Signore ci chiede di pregare senza sosta e senza la preghiera noi in realtà non abbiamo attenzione a far nostre le domande degli altri il silenzio sottintende altre azioni dobbiamo rifugire tutti gli eccessi dello zelo per esempio il criterio per capire il silenzio è verificare la nostra relazione con gli altri se non migliora la nostra relazione non serve nemmeno il silenzio e il silenzio si accompagna alla preghiera perché senza silenzio la nostra preghiera soffoca come pregare senza uno spazio di silenzio noi dobbiamo ogni giorno trovare un tempo per il silenzio perché si risveglia qualcosa in noi come in un orecchio assordato che comincia a sentire la Chiesa e ognuno di noi ha bisogno della preghiera perché il Signore la possa guidare e ci possi guidare ci possa guidare la protegga come una madre buona la conservi nell'amore e nell'unità la fortifichi nell'amore ed è un servizio di intercessione che compiamo assieme che possiamo compiere assieme tutti ogni giorno il digiuno è anzitutto movimento dice Bloom attività dello spirito lotta contro all'inerzia la pigrizia la mollezza l'indebolimento della volontà del corpo è lotta per la vita altrimenti preghiamo tutto al nostro io la misericordia perché è strettamente legata al silenzio perché ci aiuta a far nostra appunto a tradurre in intercessione le ferite degli altri l'intercessione dice Bloom sempre vuol dire in latino fare un passo che ci pone nel cuore di una situazione dare un passo che ci pone nel cuore di una situazione questa è l'intercessione appunto come la misericordia allora se noi preghiamo nel silenzio possiamo far nostre le tante domande degli uomini e delle donne messi ai margini ed è il tempo anche in cui non le non le accettiamo perché la preghiera è un respiro che si unisce a quel grido che giorno e notte sale dal dolore di questo mondo la preghiera entra nel profondo vede nel profondo come la misericordia vede quello che nessuno ci ha chiesto anticipa il futuro la misericordia e così anche l'intercessione e risponde a quello che appare impossibile oppure che possiamo dire facilmente che non ci riguarda la preghiera nel silenzio coglie il segreto il segreto di un rapporto profondo e misterioso di questo piccolo corpo privo di forze che siamo noi che sono io e quell'eterno che è al di là del mondo e quale ricompensa più grande per un uomo che muore per una donna i cui anni si contano avere un rapporto con l'eterno e la preghiera mi fa scoprire il dono di essere figlio di Dio e mi dà anche quella forza che è l'unica che può permettere la misericordia perché solo la misericordia compie miracoli cambia per davvero la vita quindi la preghiera è il miracolo noi non dobbiamo compiere dei prodigi ma dobbiamo realizzare l'amore straordinario di Dio e la misericordia è quella che compie già di per sé in concreto nella carne della vita della storia vorremmo dire della storia dell'altro della storia degli uomini compie l'amore di Dio questa è la differenza tra le opere buone tra la giustizia tra un po' di volontariato e la misericordia e quel realismo per cui la misericordia va oltre la difesa dei salvati questa è un'immagine molto importante di Papa Francesco quando disse noi non dobbiamo preoccuparci di difendere i salvati ma dobbiamo guarire i malati nella giustizia difendiamo i salvati nella misericordia e nell'intercessione ci preoccupiamo di coloro che al contrario sono malati l'intercessione è far nostro il grido di Bartimeo Bartimeo vi ricordate colui che i discepoli stessi volevano far tacere la misericordia è far nostro quel grido lasciarci toccare da quel grido ed è la preghiera essere come Bartimeo far nostro il grido dei poveri cercare di catturare di essere come loro per fermare il Signore e pestare con il Signore grida per non perdere l'occasione e anche noi dobbiamo imparare a pregare facendo nostra l'invocazione penetrante forte accorata dei poveri per questo la preghiera è la richiesta di aiuto forse il cieco Bartimeo pensava di essere segnato definitivamente forse avrebbe sentito soltanto parlare di Gesù forse avrebbe tentato di vedere ma il Vangelo riaccende sempre negli uomini la speranza la ricerca di futuro come sempre la misericordia che non è la risposta a tutto ma che è far nostra la domanda che è vivere la domanda per trovare assieme la risposta per non accontentarsi appunto della giustizia la preghiera esprime l'aspirazione di non rassegnarsi di non rendersi di fronte al male di appunto di sconfiggerlo quanto facilmente al contrario non facciamo nostra l'insistenza della richiesta l'insistenza dei poveri che possiamo capire soltanto nella misericordia e non nella giustizia ma nella misericordia la facciamo nostra l'insistenza dei poveri ci aiuta a essere insistenti nell'amore per gli altri quanto facilmente le domande che giungono a noi senza essere preventivate o desiderate pensate a Bartimeo pensate all'uomo mezzo morto che si incontra quella domanda della sofferenza stessa che ci chiedono di modificare anche solo per poco i nostri piani e che proprio per questo non trovano nessun diritto in cuori o giusti o agitati come i nostri è facile per uno sano e autosufficiente sgridare un uomo così come Bartimeo giudicandolo male imponendogli di non disturbare incutendo la paura di pesare come se chiedere fosse una colpa come si sgrida per far tacere non fermandosi con indifferenza vivendo come viene basta anche non prestare attenzione restare freddi non farsi trovare spesso si sgrida Bartimeo difendendo la nostra tranquillità imponendo i nostri diritti per non essere molestati e qui rientriamo sempre nel discorso della giustizia quell'uomo invece gridava ancora più forte e quante grida di attenzione di giustizia di speranza di cura di guarigione di attenzione ci vengono affidate e devono diventare intercessione e possono diventare intercessione se nella misericordia le facciamo nostre perché la sola preghiera può accendere di speranza di energie nuove chi è in difficoltà e c'è una forza che viene dalla preghiera e che ci è chiesto insisto per di più senza sosta che è la condizione appunto di chi grida senza sosta la povertà è una domanda che non finisce come appunto tante situazioni che soltanto nella misericordia possiamo far nostro e possiamo capire di cui che possiamo sentire come in tutta la loro drammaticità quel poveretto Bartimeo appena sa che Gesù vuole vederlo getta via il mantello corre anche se è quello di sempre sente l'amore già solo qualcuno che si ferma e vuole parlare proprio con lui lo fa alzare in piedi cambia la vita libera energie che sembravano impossibili per uno in quelle condizioni e per certi versi smette di gridare perché quello che cercava era soltanto un po' di misericordia quanto è importante essere personali capire le domande del cuore avere tempo interesse memoria sia nell'attenzione verso i più poveri sia nella preghiera di intercessione per loro nello spazio di intercessione per loro e l'una nutre l'altra io non so che cos'è che viene prima qualche volta viene prima la misericordia e poi la preghiera e quante volte quando sentiamo nostro il grido di Bartimeo il grido dei tanti che appunto i discepoli stessi mettono a tacere o che la nostra giustizia mette a tacere quanto ci aiuta poi nella preghiera o viceversa forse il restare con il Signore e fermarci con il Signore ci rende attenti e sensibili ci fa scoprire la carne di quello stesso Signore che riconosciamo nella preghiera nell'incontro con i più poveri e quindi ci apre la preghiera alla misericordia ma certamente una nutre l'altra e la preghiera e la misericordia sono così strettamente uniti come appunto il fermarsi di Maria con il fermarsi del samaritano la preghiera è un esercizio proprio due ultime cose la preghiera è un esercizio in cui non si finisce di imparare e dal quale anche qualche volta se non ci esercitiamo ridiventiamo analfabeti è come uno strumento come una lingua e se non lo suoniamo se non la parliamo poi facilmente la dimentichiamo e non si inizia con immediatezza come anche la misericordia noi non la iniziamo con immediatezza c'è bisogno di quell'oltre che è l'amore che ci fa entrare nelle domande dell'altro altrimenti non le vedremo ci accontenteremo dell'apparenza ci accontenteremo di quello che già facciamo per questo ogni giorno bisogna dedicare un tempo alla lettura della scrittura alla preghiera così come ogni giorno dobbiamo lasciare uno spazio alla misericordia solo così la parola di Dio cresce in noi e solo così impareremo a vedere il mondo intorno con gli occhi contemplativi così come ci invita con tanta insistenza Papa Francesco in questo modo con la preghiera e con l'intercessione saremo vicini ai nostri fratelli più esposti a quelli tentati dal male a quelli abbattuti dalle difficoltà in questo modo saremo vicini a quelli che hanno maggiori responsabilità e li difenderemo dal male in questo modo con l'intercessione della preghiera cingiamo una siepe intorno alla pace dei nostri fratelli e fermiamo colui che ha invidia della pace e poi misteriosamente come sempre nella misericordia e nella preghiera crescerà qualcosa che non è detto che noi vedremo che noi possiamo misurare ma che certamente sappiamo che è efficace che certamente sappiamo che darà dei frutti la preghiera crea una sfera spirituale pulita e buona che abita l'atmosfera inquinata di questo mondo e che fa respirare quanto è vero che la preghiera è come un albero che rigenera l'aria senza questa manca l'ossigeno ma ci manca anche dentro di noi e ci accontenteremo l'ossigeno che è quel sentimento del Signore che diventa misericordia altrimenti restiamo nella asfittica giustizia e quindi facilmente ognuno di noi pensa di aver già fatto a sufficienza i discepoli del Signore devono essere i primi in mezzo agli altri a vivere il sacerdozio della preghiera e il sacerdozio della misericordia dobbiamo essere fedeli e gioiosi nella familiarità con la pagina della scrittura che nutre la preghiera e così dobbiamo essere fedeli e gioiosi nel servizio all'uomo che soltanto la misericordia permette che soltanto la misericordia ci aiuta a riconoscere e che ci aiuta anche a a cui ci aiuta a trovare le risposte necessarie per le proprie domande la parte di Maria è la parte del buon samaritano queste coincidono non sono in contrasto e il vero umanesimo è fondato dalla preghiera e la preghiera è il primo atto dell'umanesimo l'umanesimo ha bisogno della Bibbia e della intercessione Marta come Levita e il sacerdote fugge il vero incontro nell'amore con Gesù e poi in fondo con con quell'uomo mezzo morto Marta si chiude in un mondo come riduce il mondo a casa sua e nel sacerdote e nel Levita c'è il mondo diventa invisibili diventa inesistenti proprio perché chiusi nella propria nella propria giustizia nel sacerdote e nel Levita c'è una preghiera ma senza il tu della preghiera e dell'intercessione quel tu che fa trovare il nostro io e fa trovare l'altro i due termini della misericordia l'amore quello che muove le nostre energie spirituali e umane è un dono di Dio e cresce nella preghiera per questo Maria è la donna saggia di cui ha bisogno il nostro tempo senza cui l'umanità corre un grave rischio e l'ultima cosa è abbasta la preghiera se noi andiamo un po' indietro in qualche anno in tempi di politica prima di tutto la preghiera sembrava davvero poco oggi si fugge da questa dimensione spirituale per altri motivi oppure la riduciamo a intimismo però in cui c'è sempre l'io al centro per riempire il vuoto si cerca la soddisfazione nel mangiare nel bene nel comprare che sono i riti dell'uomo del nostro tempo si fugge per paura del silenzio per paura di essere soli con sé per paura di lasciarsi andare aprendosi alla preghiera e si fugge anche nell'agitazione muovendosi per paura appunto di stare fermi nell'affanno nell'arrabbiarsi alla fine non so nel pensare male degli altri nel mai lasciare che qualcosa di strano ed imprevedibile mi fermi mi faccia tacere questa è la condizione di un uomo privato della centralità del cuore e di quella dimensione spirituale dalla quale tante volte facilmente appunto noi fuggiamo noi dobbiamo ritrovare la fonte che è in noi se vi ricordate è una delle espressioni così importanti di Etti Illesum visto appunto con lei adesso ve lo ridice adesso ve lo ridice basta cercare eccola qua eccola qua e la preghiera ci aiuta proprio perché ci confrontiamo con un tu a ritrovare quella sorgente che è dentro di noi dentro di me c'è una sorgente molto profonda in quella sorgente c'è Dio a volte riesco a raggiungere la più sovraintessa è coperta da pietra e sabbia allora Dio è sepolto allora bisogno di sotterrarlo di nuovo ed è l'esercizio della preghiera mi immagino che certe persone preghino con gli occhi rivolti al cielo esse cercano Dio fuori di sé ci sono altre che chinano il capo nascondendolo tra le mani credo che cerchino Dio dentro dentro di sé ma è questa dimensione che permette per esempio appunto a Etilesum di restare umana nella tragedia della disumanità più più barbara quella del del dei campi di concentramento quelli del nazismo è il valore della mia persona risulterà da come saprò comportarmi nella nuova situazione e se non potrò sopravvivere allora si vedrà chi sono da come morirò non si tratta di tenersi fuori da una determinata situazione costi quel che costi ma di come ci si comporta e il comportarsi è proprio quella di trovare dentro di sé nello spazio di preghiera la forza di Dio è buffo e che non mi sento nelle loro grinfie sia che io rimanga qui sia che io venga deportata mi sento soltanto nelle braccia di Dio e sia che ora io mi trovi qui o fra un mese in una camera in una nuda camera dal ghetto e forse anche in un campo di lavoro sorvegliato nelle braccia di Dio credo che mi sentirò sempre cadrò forse in preda alla disperazione ma anche questa è poca cosa se paragonata a un'infinita vastità e fede e capacità di vivere interiormente e ti lesum resta resterà piena di misericordia anche nella brutalità più terribile e perché proprio per questa dimensione di preghiera e di intercessione allora il cuore può risorgere gettando per aria le pietre pesanti che lo chiudono nella preghiera Frere Roger credeva che nel cuore di ognuno al fondo di ognuno c'è una traccia di un passaggio della presenza di Gesù che può risorgere anche nel peggiore anche nel più peccatore e dice una cosa così importante vi sono giorni nei quali la preghiera è pesante sappia allora offrire il tuo corpo perché la tua presenza attesta già nel tuo desiderio di lodare il tuo Signore credi nella presenza di Cristo di Cristo in te anche se non senti niente dentro di te guardate questa è l'intercessione questo è il di più della preghiera ma questo è anche il di più della misericordia che ci fa credere in quello che ancora non c'è ma che sappiamo che si realizzerà che sappiamo che alla fine la misericordia saprà creare per questo la misericordia supera la giustizia e completa la giustizia noi dobbiamo pregare anche quando non capiamo e la misericordia ci insegna ad amare anche quando sembra inutile il rabbino Safran che più che novantenne salvò tanti ebrei della Romania ha scritto la preghiera è il primo servizio di Dio perché è il servizio del cuore sì nella preghiera troviamo il cuore e nella misericordia sappiamo unire il nostro cuore alle domande degli altri Dio dice Giovanni Crisostomo parte dal bisogno tuo per darti un'occasione per dialogare di più e spesso con lui tu persevera nella preghiera la preghiera è tanto potente e non metterti a pregare come se andassi a compiere una cosa da poco la preghiera e la misericordia infatti non sono mai una cosa da poco ma è ciò che abbiamo di più grande nella preghiera e nell'intercessione facciamo nostra la domanda di tanti e permettiamo a questa di realizzarsi così nella misericordia permettiamo al Signore con la forza del suo amore di raggiungere cambiare la vita di tanti che altrimenti sarebbe persa sempre Frerogé diceva e finisco la preghiera non allontana dalle preoccupazioni del mondo al contrario niente più responsabile che pregare più si vive un'umile preghiera più lo si esprime con la vita e la preghiera l'intercessione e la misericordia sono quelli che ci permettono di unire il dolore e la domanda con l'ortoprassi cioè con la prassi buona che non è quella della giustizia ma che è quella dell'amore e della misericordia grazie grazie